Musica Avete fame? Allora provate Montaditos, banini piccoli, prezzi piccolissimi, poi potete scegliere tra varie cose spagnole e la cosa più bella è stata fare un locale del genere proprio qui, in questa situazione molto tipica per Latina ma anche particolare in quanto è una cosa che viene dalla Spagna e con tutta la cultura spagnola. Quindi vi invito a venire a trovarti e soprattutto ad assaggiare i nostri banini, le nostre insalate, le nostre fritte, facciamo molti tipi di fritti, i prezzi sono molto popolari dato che è una cosa che adesso è molto richiesta. Musica